pacchetto icona prime prime icon pack vediamo chi troviamo speriamo non un difensore o un portiere io spero in una buona prima punta e vediamo che vada bene vai speriamo speriamo dai dagli 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 french henry 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 zen spillık Vediamo quanto costa henry e lo andiamo subito a mettere in squadra che culo che culo avevo bisogno di un attaccante infatti c'è proprio il buco vuoto e eccolo qui dov'è 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 bella lì eccolo bella lì